Musica Sono molto contento per la presenza oggi di uno scrittore calabrese di grande valore, Mimmo Gangemi, che ringrazio per aver accettato il nostro invito e ringrazio anche Lions Club di Soveria Mannelli per aver promosso e organizzato questo service a favore della nostra scuola. La scrittura creativa per noi è un impegno educativo, da circa due anni è inserita all'interno del piano triennale dell'offerta formativa e ha lo scopo di avvicinare i ragazzi a un tipo di scrittura meno scolastica e che permette loro di realizzarsi in termini di originalità, di creatività, avere un rapporto con le parole meno consuetudinario e capace quindi di portarli a vedere la realtà nella sua profondità, una profondità che scompare se non viene fermata dalle parole su un foglio bianco.